Questa mattina gli ultimi ritocchi, questa sera la definitiva apertura alla città del riqualificato piazzale d'annunzio. Finalmente il lungomare di Levante ha la sua agora aggregativa laddove fino a due anni fa vi era poco più di un incrocio stradale. Una piazza volute aspettata ben oltre l'iniziale previsione di fine lavori calendarizzata per fine giugno e che si concretizza il 7 di agosto lanciata dalla voglia di recuperare il tempo perduto. Già questa sera è infatti previsto il primo evento. La rassegna il cinema in piazzale realizzata dal comune in collaborazione con Apo Hotels che iniziando oggi proseguendo ogni venerdì fino al primo settembre proporrà una programmazione di giochi, letture, film per bambini e bambine dai quattro anni in su. Un intervento di riqualificazione che porta via le auto per portare spazio alla socialità, alle persone. Un percorso questo che nasce molto da lontano quando ormai diversi anni fa il sindaco insieme al vice sindaco Daniele Vimini insieme a Sobelloni hanno iniziato a studiare delle soluzioni per rendere anche attrattiva quella parte di Viale Trieste che si sviluppa dalla palla di pomodoro verso sud quindi con una serie di interventi leggeri e anche il posizionamento del casco dedicato a Valentino Rossi. A dicembre l'assessore Nobili ha messo le risorse a bilancio 500 mila euro, a gennaio abbiamo subito iniziati in primi incontri con le attività, con gli albergatori, anche con i residenti proprio per cercare di trovare un ascoltare e arrivare poi a mettere a un progetto che funzionasse e sin da subito ha trovato accolto diciamo il benestare e proprio il gradimento da parte di tanti. Bisogna partire dalla storia di questa piazza. Questa piazza era negli anni 70 80 il luogo di incontro della gioventù pesarese che sedeva nella panchina che ha le mie spalle e che è stata preservata volutamente da me per una memoria. Il resto era una piazza che praticamente una rotonda carrabile, era un non luogo mentre il comune di Pesaro aveva intenzione di fare diventare questo un luogo urbano. Luogo urbano significa un posto dove si crea una aggregazione delle persone, degli abitanti e per questo motivo abbiamo pensato non solo di incrementare il verde dal 2% al 30% circa della superficie intera. Adesso purtroppo il verde ancora è nella sua nascita per cui bisognerà aspettare per avere un bel rigoglio almeno la prossima estate oppure addirittura nell'estate del 2025. Una piazza centrale che è rotonda a mo' di agora che significa luogo di incontro e che comunque servirà per spettacoli, per ludicità dei bambini e direi che abbiamo anche in qualche manietta trovato una collocazione per il il casco di Valentino che adesso è all'interno di una vasca d'acqua. Un ulteriore aspetto importante è determinato dalla viabilità. Questa curva che il viale Trieste fa in questo punto impone una velocità inferiore a quella di prima nel verso dei 30 km orari perché la riduzione della velocità porta sicuramente più sicurezza.